Tutto è pronto? Partita! Zenia dei Loi, Zoende di Gallura, all'esterno dei due Aline e Kall. Aline e Kall, larghissimi invece, sono rimasti al Wadi prima e poi Zoe di Gallura. Quindi Zenia dei Loi all'interno di Zoende di Gallura e Aline e Kall. All'esterno il primo che muove è Zelten, insieme a Zag di Gallura e più all'esterno Zoe di Gallura e Alwadi. Vediamo un po' come si sviluppano le posizioni. Zenia in vantaggio, muove Zag di Gallura, superando Aline e Kall. Zoe di Gallura, Zoende, Alwadi montato sulla curva. Poi intanto sta passando il leggero vantaggio, sempre Zenia dei Loi su Zag di Gallura. Poi richiesto Zoende di Gallura che precede Aline e Kall e Zoe di Gallura. Poi cercano il recupero anche Zelten prima e allargo di tutti Alwadi. Alwadi con Aline e Kall e Zag di Gallura. Passa Aline e Kall, rincorso da Zoe di Gallura. Allargo di tutti Alwadi con Aline e Kall e Zoe di Gallura. Poi Alwadi, Aline e Kall contro Zoe di Gallura. Poi all'interno c'è un portacolori, sempre Zag di Gallura e allargo Alwadi. Aline e Kall che vince su Zoe di Gallura. E terzo dovrebbe essere Zag di Gallura. 1-9-4-2. Vittoria di Aline e Kall, Rosario Mangione. 3-55 per Aline e Kall che si allontana da Zoe di Gallura. Quindi 1-9 e poi il 4 di Zag di Gallura davanti al 2 di Alwadi. 1-9-4-2. E poi il 5 di Zeffiro di Chia. 1-9-4 e per il momento è tutto. Grazie. 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 Grazie.